Ciao, sono Camilla, sono una studentessa magistrale in marketing e comunicazione e ho scelto l'Università di Verona perché mi interessava dopo la triennale che ho fatto a Como dove vivo fare un'esperienza fuori casa ed è stata per me una bellissima esperienza perché l'Università di Verona si inserisce in maniera attiva all'interno del territorio e della città e questo dà l'opportunità a noi studenti fuori sede di poter fare delle belle esperienze conoscere nuova gente, fare tante attività. Una cosa quindi che mi è piaciuta dell'Università è proprio questa comunità che si viene a creare, il circuito di amicizie, di nuove conoscenze e tutte le possibilità che la città offre. Una cosa che non mi è particolarmente piaciuta cioè avevo magari un'aspettativa più elevata era sul fatto che all'interno del nostro corso di laurea manca un pochettino l'attività pratica che però viene anche un pochettino supportata da altre attività magari proposte da altri enti all'interno della città.